bene giornata di consolidamento per il DAX questo è il solito grafico a due ore oggi meno 0,43 sta consolidando il superamento di 12,8 quello che emerge dal comportamento degli ultimi giorni è che utilizzando lo strumento di regressione lineare viene fuori che già da qualche giorno in realtà il DAX ha impostato un canale ascendente che è prolungato a destra, vedete sta contenendo bene mi sono fermato qui, anche se vado più avanti nel calcolo il canale è sempre lo stesso quindi in realtà questo canale ovviamente questo lo vediamo ora col senno di poi ma in realtà lo sta già impostando era già impostato da qualche giorno se ne poteva accorgere già dal primo minimo ascendente che è quello che è stato formato il 10 di luglio ora questo canale ha una pendenza bassa ce ne accorgiamo anche dalla direzionalità vedete la DAX per il momento non è cresciuto è un lento arrampicarsi verso l'obiettivo a 13,3 che è l'obiettivo tecnico più vicino e anzi se dovesse proseguire di questo passo possiamo anche dire che se dovesse proseguire di questo passo la lanzata possiamo anche dire che l'obiettivo potrebbe essere raggiunto verso la fine di luglio ovviamente questa è una stima tutto probabilistico non stiamo dicendo che il 28 luglio sarà a 13,3 stiamo semplicemente proiettando quella che è una tendenza ad oggi ovviamente lo scenario cambia vedete la volatilità di stop line ha iniziato la pendenza verso l'alto questo canale, l'orientamento è quasi parallelo con la media 200 periodi quindi è un lento portarsi verso l'alto tra oscillazioni tutto sommato con una volatilità che considerando che comunque siamo sempre su livelli molto alti superiori a 25 oggi cosa abbiamo fatto? per la volatilità vediamo che non la trovo eccola qui 25,9 continua a scendere questo è un segnale positivo ai fini appunto del proseguimento di questo piccolo trend ho tolto tutti i vari canali e segni lascio soltanto questo supporto molto importante a 12,2 e per il resto continuiamo a seguire vediamo un attimo l'evoluzione ci siamo portati guardate questo riferimento perché ci servirà dopo quando guarderemo il Dow Jones siamo sopra i massimi dell'8 luglio e abbiamo chiuso il gap dell'8 giugno scusate abbiamo chiuso il gap del 10 giugno questo era un gap molto importante Futsi Mib ancora meglio perché oggi finisce più 0,3 quindi ha un differenziale di più 0,7 rispetto al DAX e quindi sta recuperando abbastanza bene l'obiettivo per il Futsi Mib è area l'abbiamo già detto altre volte area 21.000 veniamo all'America che sta chiudendo proprio in questo momento sono le 22 giornata interlocutoria anche lì meno 0,5 ecco vedete la differenza quello che vi facevo vedere questo è il famoso gap del 10 giugno il Dow Jones è ancora lì che lotta questa è la fascia di resistenza non è riuscito a passarla vedete persino il nostro Futsi Mib è sopra i massimi dell'8 giugno è questo il gap siamo molto più su invece il Dow Jones è ancora lì dentro questa per la debolezza relativa che sto segnalando da un po' di tempo degli indici americani soprattutto almeno gli indici l'indice industriale quello del Dow Jones perché il Nasdaq e i FANG sono un altro capitolo non ripeto cose già dette nei video scorsi quindi niente io direi per questo quadro va bene così diamo un'occhiata a qualche titolo interessante intesa San Paolo perché sta provando vedete questo è il grafico a due ore di intesa sta provando a superare 1.82 che è una resistenza molto importante mancherebbero i volumi apro il quadro per far vedere che qui c'è questa grande base questo enorme gap enendolo con obiettivi verso l'alto interessanti che vedremo poi però vorrei vedere prima vedere vorrei prima vedere superata questa resistenza 1.82 che è molto importante per il momento ci ha messo sta testando guardate no? sono già diverse ore che ci prova e vediamo se riuscirà a passare però i volumi mi sembrano un po' bassi comunque da tenere d'occhio direi per le prossime ore bene STM che ha rotto al rialzo questo triangolo flat in alto già qualche giorno fa l'avevamo segnalato i volumi qua sono buoni vedete come sono cresciuti rispetto agli ultimi giorni molto volatile ma questa è caratteristica di STM per cui più 5 meno 5 più 3 comunque sta consolidando con molta volatilità sopra 24 e 7 quindi secondo me è interessante anche questa STM da seguire qui vedete la direzionalità già più alta e i buyer in controllo un amico l'altro giorno ci chiedeva di Ubi insieme a San Paolo intesa San Paolo e ha un'impostazione positiva minimi crescenti anche qui c'è una fascia di resistenza da superare a 3 e 2 però per il momento interessante concluderei con Ferragamo che avevo segnalato qualche giorno fa perché si era appoggiata su questo importante sub Ferragamo ha avuto un comportamento strano perché un uscito un breakout buono fino ai primi di giugno con volumi buoni dopodiché un un lento adagiarsi con un ampio movimento correttivo che ci può stare perché questo anche in ottica Elliot potrebbe essere tipo onda 1 onda 2 è possibile secondo me è da seguire perché siamo su un supporto molto importante quindi le poverazioni potrebbero avere dei risk reward molto convenienti e in effetti da quando avevo segnalato appunto che stavamo portando ci si stava portando lentamente con poco momentum ha perso rispetto alle prime fasi correttive questa terza gamba è stata veramente molto lenta con volumi scarsi ha oscillato ha oscillato sta oscillando ancora all'interno di questa fascia di supporto tra 11.5 e 11.9 secondo me è da seguire perché un breakout verso l'alto della volatilist stop line che nel frattempo si è appiattita soprattutto se riuscisse a riportarsi sopra la media a 200 periodi potrebbe essere interessante certo dovrebbe essere accompagnato da volumi però siamo sui supporti e quindi generalmente in questi casi se i supporti reggono il titolo è da monitorare ripeto alla luce dell'impulso che c'era stato qualche settimana fa va bene tutto per oggi oggi video un po' più breve lasciatemi pure richieste o commenti osservazioni di sotto e ci aggiorniamo a domani grazie dell'attenzione grazie a tutti